Buongiorno, oggi parliamo di Tiziano, Tiziano Vecellio. Ecco, quest'artista che vediamo nell'immagine, fra l'altro il suo autoritratto, nasce intorno al 1476 a Pieve di Cadore, che adesso è nella zona di Belluno. Proveniva da una famiglia piuttosto stagiata e arriva poi a Venezia. A Venezia entra nella cerchia di Giovanni Bellini e poi si avvicina anche a Giorgione, che era allievo, fra l'altro, di Bellini stesso. Anzi, di Giorgione assimila molto presto lo stile, tanto che alcune opere sono ancora oggi di dubbia attribuzione, come questa festa campestre che, a seconda degli autori, è attribuita interamente a Giorgione oppure a Tiziano. Come vediamo, lo stile è molto vicino a quello di Giorgione stesso. Poi, mano a mano, Tiziano raggiunge una sua autonomia stilistica. Matura uno stile molto personale, come vediamo, ad esempio, in questa immagine, che, appunto, con l'uso di colori stesi in maniera molto rapida e senza disegni preparatori e praticamente senza contorni. Ora, una pittura priva, appunto, del disegno risulta in questo modo fortemente espressiva perché le forme, appunto, non avendo più un contorno così netto come erano soliti fare nella scuola fiorentina, risultano praticamente più accennate che non descritte e questo gli dà una vivacità e una naturalezza sconosciute fino a quel momento. Comunque, quando poi Giorgione muore a Venezia, Tiziano, ed era morto anche Bellini, Tiziano diventa il primo pittore di Venezia, della Repubblica Veneziana. Non solo, ma poi la sua fama si diffonde un po' dappertutto in Europa e realizza numerosi lavori per le grandi case reali e le signorie d'Europa, tanto da diventare, ad un certo punto, il primo pittore, cioè il pittore ufficiale addirittura dell'imperatore Carlo V. e in questo periodo realizza moltissimi ritratti con una cume e un'attenzione alla resa psicologica del personaggio ritratto. Nel 1552 si stabilisce definitivamente a Venezia, dove poi metterà su una bottega molto fiorente nella quale lavoreranno molti allievi e seguaci e tra questi anche il figlio Orazio. Tiziano è stato un grande sperimentatore per quanto riguarda le tecniche pittoriche, tanto che alla fine della sua vita, nelle ultime sue opere, stendeva il colore addirittura con le dita, cercando nuovi effetti visivi in realtà. Andiamo allora ad analizzare una delle prime opere di un tiziano già maturo e già padrone del suo stile personalissimo. Parliamo di questa opera che stiamo vedendo, che è appunto La pala d'altare dell'Assunta, che è stata commissionata dal Convento dei Frari. È detta anche, infatti, l'Assunta dei Frari, l'opera. Il soggetto rappresenta l'assunzione in cielo di Maria. Tiziano organizza compositivamente quest'opera su tre registri sovrapposti che, dalla parte più bassa, che rappresenta il mondo terreno, che è appunto il mondo delle passioni e del peccato, idealmente, in senso ascensionale, ci porta poi al cielo, alla gloria divina. Infatti, in giù possiamo vedere, facendo un dettaglio, possiamo vedere un insieme di personaggi. Sono gli apostoli, i quali sono atteggiati in pose molto diversificate le una dalle altre, e anche con atteggiamenti piuttosto scomposti. Si agitano, alzano le braccia, sembra che stiano... È una scena comunque concitata. Questi uomini, appunto, che sono agitati dalle emozioni e dalle passioni, protendono le braccia proprio verso la Vergine, che poi, nel dipinto, Tiziano ha posto esattamente a metà strada tra questo mondo terreno delle emozioni e delle passioni umane e, invece, la gloria divina che si trova in alto. Ritornando al nostro dipinto, visto totalmente, possiamo, a prima vista, vedere come ci sono alcuni colori che spiccano tra gli altri. Ed è il rosso, caratteristico, fra l'altro, proprio di Tiziano. Rosso è il manto della Vergine, rosso sono i manti anche dei due apostoli che sono in basso. Ecco, questi tre blocchi di colore, in qualche modo, disegnano nella nostra mente una sorta di triangolo che rimanda a quella unione simbolica fra cielo e terra. Facendo un dettaglio sulla Vergine, vediamo che la Vergine è stata posta da Tiziano su una vaporosa nube biancastra e la stessa Vergine è affiancata da una miriade di cherubini, anche questi che svolazzano un po' a destra, a sinistra e atteggiati in pose molto diverse. Anche questi sono, è una folla piuttosto movimentata. La Madonna è stata rappresentata con il piede destro quasi completamente sollevato e ha le braccia alzate verso il cielo e questo per dare all'osservatore la sensazione proprio del momento in cui la Vergine sta per spiccare il volo per andare appunto verso il cielo, verso il Padre. Il volto della Madonna è radioso, è in estasi e ricorda un po' anche il volto del Cristo che ascende al cielo di Raffaello. Il manto della Vergine è stato rappresentato gonfio dal vento come se appunto fosse stato gonfiato da un turbinio di vento. Questo dà ancora nuovamente dinamismo in movimento a tutto il dipinto, fra le altre cose, ma anche aumenta e rafforza questa sensazione di movimento e di ascesa verso il cielo. e nel contempo quasi ci fa scorgere la Madonna come se fosse in un cerchio, idealmente in un cerchio. Eccola, quasi a sottolineare appunto la protezione che si voleva dare alla stessa Vergine Maria. Nella parte più alta, nel registro superiore, troviamo la figura del Padre Eterno. Per la sua posizione in qualche modo questa figura, attornata poi anche dagli altri personaggi che lo sorreggono, in qualche modo blocca questo moto ascensionale che abbiamo visto partire dal basso e andare verso l'alto con un atteggiamento, anche perché forma una sorta di muro finale, verso il quale si protendono tutti gli altri personaggi dei registri inferiori. però, anche se il Padre Eterno è una figura convenzionale perché è rappresentato come ci si aspetterebbe con la barba bianca, un uomo molto anziano e così via in ogni caso Tiziano dà il suo carattere personale perché inclina la postura infatti sembra che stia planando in una maniera come un aereo che si inclina da un lato per discendere, ha le braccia spalancate, i capelli sono scomposti, questo non è consueto come rappresentazione del Padre Eterno. inoltre Dio appare in controluce in quanto alle sue spalle c'è una forte luce abbagliante e quindi lo stesso Padre Eterno appare in qualche modo più scuro in controluce. questa scelta di illuminare dal retro il Padre Eterno con una forte luce che viene dall'alto fa sì che dà la possibilità a Tiziano di attenuare i contorni per cui la scena ha un che quasi di soprannaturale fra le altre cose dà anche la possibilità a Tiziano di illuminare le diverse parti, diversi registri con luci diverse infatti questa luce che è la luce divina che dall'alto illumina sia la zona appunto del registro dove c'è il Padre Eterno ma soprattutto illumina con una luce soprannaturale con un'altra direzione illumina la Madonna, i cherubini, la nuvola quindi del registro mediano mentre la parte bassa, quella terrena viene illuminata da una luce cosiddetta naturale appunto la luce terrena e questo fa sì che questa luce ovviamente ha un'altra direzione un'altra inclinazione fa sì che tutti i corpi sia quella la luce soprannaturale che la luce naturale riescono, danno modo a definire a Tiziano di definire e modellare i volumi dei vari soggetti senza andare a definire con meticolosità i contorni e quindi in assenza del disegno ecco quindi in definitiva possiamo affermare che in quest'opera ci sono tutti gli elementi fondamentali della pittura tizianesca che sono da una parte il colore molto intenso la luce l'uso quindi della luce stessa e la concitazione il movimento che anima tutti i personaggi in genere di Tiziano passiamo ora all'analisi di un'altra opera di Tiziano quella che viene definita la pala Pesaro che noi stiamo osservando qui nell'immagine e essa fu commissionata si chiama così perché è stata commissionata a Tiziano dal vescovo Jacopo Pesaro comunque anche questa pala è stata destinata alla Basilica dei Frari come l'opera precedente e rappresenta una Madonna in trono con il bambino fra i Santi Pietro che è quello al centro seduto San Francesco d'Assisi e Antonio da Pato che invece sono a destra della Madonna tutti intorno poi vediamo anche degli altri personaggi inginocchiati e con le mani in preghiera fondamentalmente ecco quelli sono i vari personaggi della famiglia Pesaro quindi diciamo che il soggetto è quello di una sacra conversazione dove sta la novità di Tiziano sta nella nella composizione soprattutto nella composizione infatti vediamo innanzitutto che qui la Madonna non è più al centro come generalmente era era sistemata nelle diverse sacre conversazioni ma è spostata sulla destra e si trova lungo una linea diagonale che possiamo praticamente immaginare che dall'angolo in basso a sinistra va praticamente a trovarsi ad inclinarsi alla metà del lato destro della della tavola stessa bene in realtà questa posizione è un po' anomala rispetto a quello che era la tradizione serve a Tiziano per mettere in risalto la Vergine stessa perché normalmente chi guarda un dipinto segue con l'occhio proprio come se seguisse la scrittura che va da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto segue proprio questa direzione ponendo quindi la Madonna al culmine del percorso visivo che un ipotetico osservatore fa c'è quindi una sorta di sensazione di moto ascensionale che è oltretutto rafforzato anche dal aver posto il punto di vista prospettico molto in basso rispetto a quello che praticamente normalmente si sarebbe posta e più o meno a livello del secondo scalino del trono come possiamo osservare in questo schema dove vengono riportati appunto la linea di orizzonte a livello del secondo gradino e poi tutte le varie linee di fuga comunque lo spazio che Tiziano organizza e immagini realizza in cui fa muovere tutti i personaggi è possiamo dire che è quello compreso tra i personaggi inginocchiati in primissimo piano e il cielo stesso all'interno di questo spazio sono collocate tutte le figure ogni figura ha un una collocazione una posizione molto precisa e dato che in parte la figura più avanti copre quella più indietro ecco questo fa sì che l'osservatore abbia una sorta di elementi per misurare la profondità dello spazio stesso quindi alla fine la prospettiva lo spazio profondo è percepito attraverso proprio la diversa collocazione dei vari personaggi che in qualche modo definiscono diversi piani prospettici mano a mano che si allontanano ovviamente a questo contribuiscono anche gli altri elementi quali gli elementi architettonici particolare è anche la nuvola grigia che è in alto una nuvola dicevamo da dove vediamo dal discorcio quindi da sotto in su che due angioletti che si stanno agitando muovendo in maniera piuttosto concitata è anche un po' scomposta per erigere una croce ecco questa nuvola è esattamente sopra San Pietro ed inoltre getta la propria ombra su una delle colonne che si stagliano contro il cielo luminosissimo che dietro ecco questo dà ancora una volta la sensazione anche di materialità e di volumetria di tutti gli elementi tra cui anche la nuvola che noi capiamo bene dove anche perché la sua ombra si proietta proprio sulla colonna colonne che sono due in realtà di cui non vediamo il capitello e questo praticamente suggerisce uno spazio molto più alto e più ampio di quello realmente concretizzato all'interno della tavola va oltre i limiti fisici è una sorta di suggestione che viene data questa suggestione relativo allo spazio c'è che lo spazio sia molto più ampio di quanto non riusciamo noi a vedere e poi rafforzato anche dall'altro gruppo di committenti che si trova in basso a destra che in parte sembrano come dire il gruppo sembra tagliato dal bordo della tela quasi ad indicare che il dipinto non fa altro che rappresentare un pezzetto di una realtà che invece è molto più ampia è più complessa di quella che un pittore può rappresentare il resto dei personaggi che poi sono dei santi che sono intorno alla vergine Tiziano li pone su piani prospettici intermedi tra i committenti e le colonne e sono rappresentati con grande naturalismo non c'è una gerarchia tra i vari personaggi quello più importante e quello meno importante sono un po' sistemati in maniera quasi casuale apparentemente e sicuramente manca la pomposità che siamo abituati a osservare in opere di questo soggetto simbolicamente la chiave di San Pietro che troviamo in basso a sinistra è sistemata appoggiata su uno degli scalini con diciamo una sensazione di non curanza che per quell'epoca poteva essere considerata anche poco dignitoso per una pala di questo tipo San Pietro è rappresentato mentre sta sfogliando un libro ed è al capo rivolto verso sinistra ha un abito di colore blu molto intenso e l'altro elemento di abbigliamento è il mantello giallo che è molto piegato con un panneggio molto accentuato ecco questi due colori ovviamente si contrastano e tra e dal loro accostamento ne deriva anche una forza di luce una maggiore luminosità comunque gli elementi che contraddistinguono l'opera di Tiziano come avevamo già detto nell'opera precedente sono sicuramente il colore e la luce e una tecnica piuttosto veloce e sommaria sono più macchie di colore che non la definizione esatta ad esempio proprio attraverso l'accorta graduazione dei toni ponendo macchie di colore che diciamo tra di loro si contrastano in qualche modo riesce a dare ai volti dei personaggi una naturalezza che non era solita insomma nel panorama artistico del momento come anche oltretutto per i loro abiti che hanno dei riflessi cangianti e sono in qualche modo proprio attraverso il colore e le masse di colore rendono benissimo la volumetria dei panneggi stessi la luce la luce è costruita grazie proprio alla contrapposizione di chiari e scuri infatti passiamo dalla vergine che è diciamo in qualche modo il volto il suo volto la parte alta ha come sfondo un 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 manto che in questo caso è stato scelto di colore bianchissimo da da tiziano diversamente da quello che si faceva normalmente dove il il manto della vergine era normalmente azzurro come vediamo in questo dettaglio questo serve ovviamente a dare maggiore risalto a alla alla madonna stessa ma a far uscire fuori anche il volto e il corpo e quindi anche la volumetria passiamo all'analisi adesso di un'altra preziosa e conosciutissima opera di tiziano quella che è chiamata la venere di urbino il dipinto attualmente è conservato alla galleria degli uffizi e come possiamo osservare rappresenta una giovane donna nuda che è distesa su di un letto ed è questo l'elemento in primissimo piano ci ricorda molto da vicino la venere dormiente di Giorgione alla cui realizzazione fra l'altro probabilmente partecipò anche lo stesso tiziano allievo di Giorgione ma è molto diversa da quella da quell'opera da quella di Giorgione innanzitutto l'opera di Giorgione prevedeva la venere dormiente e nel distesa in un prato e quindi all'aperto nella natura mentre tiziano ambienta la 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 dea questa donna all'interno di una ricca casa nobiliare infatti gli unici accenni di natura che possiamo osservare sono dati semplicemente da ciò che si intravede attraverso l'apertura sul fondo sulla destra e quindi praticamente oltre la finestratura e da una pianta ornamentale che sta posta sul davanzale poi l'altro aspetto il secondo aspetto di differenza è che la venere di di Giorgione era sola all'interno di questo bellissimo paesaggio dolcissimo paesaggio qui invece la donna non è sola infatti sullo sfondo a destra possiamo vedere che ci sono due due personaggi due persone della servitù due fantesche delle quali una è inginocchiata sembra che stia rovistando in un cassone e l'altra in piedi probabilmente stanno cercando i vestiti per la loro signora inoltre sulla destra ai piedi del letto possiamo anche osservare che è stato rappresentato un cagnolino che ha ciambellato questo è anche un elemento simbolico ed è appunto il simbolo della fedeltà coniugale ebbene l'ambiente in cui si trova i vari personaggi che la circondano e non ultimo anche la scena del cagnolino ci fanno dire che questa diversamente da ciò che aveva cercato di rappresentare Giorgione non è una dea ma è una donna vera a dispetto anche del nome della tavola comunque la maggiore differenza che c'è tra i due dipinti sta proprio nell'atteggiamento che hanno le due donne quella di di Giorgione e quella di Tiziano mentre la venere di Giorgione era mollemente assopita con gli occhi chiusi è un atteggiamento dolce pacato si dice inconsapevole della propria nudità inconsapevole in quanto lei è in quello stato ma dorme quindi non ha sentore di presenze diverse intorno a sé come gli osservatori che siamo a noi ecco quella invece di Tiziano appare perfettamente cosciente di tutta la situazione che sta vivendo perché Tiziano la rappresenta innanzitutto sveglia assolutamente ma con lo sguardo rivolto verso l'osservatore fissa l'osservatore e non sembra neanche che a provi disagio che abbia pudore si mostra per quella che è in maniera decisa e consapevole a livello compositivo la donna è praticamente disposta lungo la diagonale o comunque parallelamente alla diagonale del dipinto dell'intero dipinto e inoltre possiamo vedere anche che il punto di vista è posto abbastanza in alto e da quello poi fa scaturire tutta una serie di gradienti prospettici come quello della pavimentazione ma questi riguardano soltanto una zona dell'intera tavola e allora come riesce Tiziano a dare la sensazione della profondità dello spazio profondo ecco come abbiamo detto nelle opere precedenti lo riesce a ottenere attraverso il tonalismo cioè praticamente attraverso la contrapposizione la giusta posizione l'accostamento di toni o più caldi o più freddi o più chiari o più scuri in maniera tale da dare la sensazione appunto sia della volumetria dei vari elementi e sia l'illusione dello spazio profondo vediamo infatti che il colore del corpo è un colore ambrato è contrapposto a un biondo molto intenso dei capelli che sono fra le altre cose contrapposte ambe due al tendaggio verde scuro quindi alle spalle di queste masse così diciamo chiare c'è questo tendaggio verde che fra l'altro è anche più freddo come colore e poi ci sono anche questi grandi cuscini rossi che spiccano che fuoriescono sotto le lenzuola che sono anche queste bianche ecco sono praticamente tutte masse di colori che si contrastano molto tra di loro e proprio da questo forte contrasto di masse di colore che emerge in qualche modo la forma molto dolce del corpo ma grazie proprio ai contrasti emerge anche molto decisa come linea di contorno anche se non c'è questa linea di contorno diciamo come segno grafico come spazio vediamo che effettivamente come abbiamo visto anche nello schema precedente sulla destra è molto più profondo lo spazio si suggerisce in qualche modo l'interno della casa ma non ce lo fa vedere tutto quindi in qualche modo ci induce a immaginare che questo interno sia anche molto più grande di ciò che è rappresentato come dicevamo precedentemente la stessa successione dei toni dai quelli più caldi del letto fino a poi quelli gradualmente sempre più freddi fino ad arrivare ai colori freddi che si intravedono con gli azzurri del cielo oltre il davanzale ci suggeriscono poi la la profondità di questo spazio oltre a quei pochi gradienti prospettici di cui si serve Tiziano passiamo adesso ad un altro genere in cui è stato maestro Tiziano che è quello della ritrattistica l'opera che stiamo vedendo qui è praticamente il ritratto proprio di Papa Paolo III Farnese come introduzione possiamo dire che Tiziano non si limita nella ritrattistica soltanto alla riproduzione delle forme di ciò che ritrae ma cerca di fare una sorta di indagine psicologica cioè dimostrare il personaggio anche per le sue caratteristiche morali interiori interne insomma anche in questo in questa tavola come possiamo vedere ciò che salta subito agli occhi è l'intensità del colore e non solo l'intensità ovviamente anche la giusta posizione delle varie masse di colore i personaggi normalmente da lui ritratti in qualche modo vengono ritratti a busto quasi sempre intero in questo caso addirittura abbiamo la figura intera ma in altri ritratti quelli che abbiamo visto all'inizio generalmente vengono ritratti a busto quasi sempre intero e generalmente gli sfondi sono volutamente indistinti e scuri in maniera tale da far risaltare maggiormente il soggetto ritratto in questo modo appunto i volti risaltano per contratto e poi non mancano alcuni piccoli elementi che gli danno modo di dare brillio e luce come un colletto piuttosto che un monile qui vediamo il Papa Paolo III piuttosto anziano che è raffigurato tra due nipoti Alessandro che è quello a sinistra con abiti cardinalizi e Ottavio in qualche modo questo ci ricorda un po' il ritratto di Leone X con i cugini realizzato da Raffaello infatti anche anche in questo in questa opera in questa composizione vengono rappresentati diversi personaggi anche con i diversi atteggiamenti e quindi rivelando le diverse psicologie infatti il Papa si vede che è rappresentato con il corpo curvo e quindi diciamo si percepisce perfettamente che è malandato del fisico ha un naso piuttosto adunco e affilato e ruota alla testa ruotata la testa rivolta ad Ottavio con uno sguardo molto intenso quasi sembrerebbe quasi di rimprovero Ottavio da parte sua accenna a fare un inchino si vede che comunque è un inchino di circoscrizione circospezione perché non sembra veramente sincero mentre dall'altra parte sulla sinistra abbiamo l'altro nipote che è rappresentato con un atteggiamento quasi distratto sembra quasi che lui stia osservando la scena ma che non ne partecipa attivamente tanto è che rivolge lo sguardo neanche verso gli altri due personaggi ma verso l'osservatore quasi a volerne capire il consenso e tutte le figure emergono dalla penombra c'è uno sfondo piuttosto diciamo pesante e anche scuro c'è un pesante drappo rosso che pende poi da una parete verde scuro rosso e verde sappiamo che sono dei colori complementari fra le altre cose quindi in qualche modo danno anche la sensazione fra l'altro sono caldo e freddo e quindi dalla diversa percezione che abbiamo proprio delle masse colorate per il nostro sistema visivo abbiamo anche la sensazione di una qualche profondità il tipo di pittura la tecnica utilizzata e come possiamo osservare quella con pennellate molto rapide e sempre meno precise dove le forme sono più che altro abbozzate e non definite in maniera dettagliata tanto è che alcune zone sono addirittura lasciate incompiute quindi abbiamo la prevalenza di colori molto densi e pastosi e tutta l'atmosfera appare piuttosto cupa e soffocante quasi come la resa poi anche dei drappeggi e dei velluti in qualche modo ci opprimesse in qualche modo insomma il colore non è più steso uniformemente ma è come se avesse addirittura una sua materialità come se emergesse da anche come corpo di pastosità possiamo osservare ecco qui in alcuni punti come appunto le forme siano più che altro abbozzate e non c'è la cura minimamente del dettaglio e giungiamo all'ultima opera di questa trattazione di oggi di Tiziano ecco l'opera che noi stiamo vedendo è quella della pietà questo è l'ultimo dipinto in assoluto di Tiziano era stato lasciato incompiuto perché poi sopraggiunse la morte per peste e fu poi in qualche modo completato da un allievo Palma il Giovane quest'opera era stata pensata da Tiziano per la propria tomba in realtà poi non fu mai collocato perché appunto come dicevamo era in corso questa epidemia di peste e quindi le cose non andarono come lui pensò insomma lui morì poi per peste fra le altre cose che cosa vediamo in questa in questa tavola c'è un enorme nicchione con una cornice di un portale di gusto ormai già manierista e ovviamente è lo stile che si stava affermando in quel periodo e abbiamo anche due grosse statue Mosè a sinistra e la Sibilla e l'Espontica dall'altro lato ecco all'interno di questa ambientazione che abbiamo descritto sommariamente c'è lo svolge su una scena molto drammatica infatti a sinistra in piedi vediamo Maddalena che urla disperata e mostra il proprio dolore con atteggiamento quasi scomposto perché sta urlando e quasi scappando via sembra quasi che si voglia uscire fuori dal dipinto per il dolore della morte di Cristo di contrapunto lì accanto c'è invece Maria un altro modo di sentire il proprio dolore infatti Maria è rappresentata seduta che fissa in maniera quasi sconvolta e senza grosse reazioni fisiche fissa proprio il corpo e il volto del figlio sulla destra e quindi quasi ad un diciamo al vertice di un ipotetico triangolo che avrebbe come vertice superiore proprio il capo della statua di Mosè vi è invece Nicodemo che è inginocchiato e sembra che sorrega il Cristo sotto l'ascella sinistra ed in questo schema possiamo leggere quell'ipotetico triangolo di cui parlavamo prima all'interno del quale sono disposte tutte le figure e tutti i personaggi che ambientano questa scena stessa all'estrema destra praticamente sotto la statua della Sibilla e l'espontica vediamo una tavoletta in questa tavoletta anche se in maniera sommaria sono rappresentati Tiziano e il figlio Razio che sembrano inginocchiati in atteggiamento di preghiera mentre più in alto sempre nella stessa tavoletta sembra esserci una rappresentazione allegorica della Madonna probabilmente questo perché Tiziano e il figlio erano già stati colpiti dalla dalla peste comunque per quello che riguarda i colori questi appaiono piuttosto cupi e diciamo anche sporchi impastati in alcuni punti sono stati stesi con le dita la luce appare livida e questo dà una specie di connotazione di sensazione quasi spettrale di tutti i personaggi le pennellate sono rapide ed imprecise quasi a tutto a tutto questo quasi a a dare un'atmosfera generale di un'immane tragedia che si stava abbattendo sul capo e ovviamente il presagio di morte dello stesso tiziano in alto è diciamo da notare un piccolo angelo che tiene una lunga fiaccola lucente anche l'angelo è stato soltanto impostato da tiziano non è definito nei suoi dettagli e con questa fiaccola illumina in una maniera anche molto particolare sia il catino a mosaico il catino sullo sfondo della nicchia e sia anche altri elementi che vengono così a ricevere come il volto di Mosè a sinistra o altri elementi architettonici riescono a ricevere dei piccoli punti di brillio di luce che in qualche modo dinamizzano e vivacizzano la scena che invece è con un senso molto di tetro molto scura